ciao ragazzi in questo video vado a fare un confronto tra la sm58 con il cavo e la sm58 wireless con ricevitore blx24 ora quando dicevo che volevo comprare un microfono wireless in molti me lo sconsigliavano per via della grande differenza di qualità audio devo dire però che sto utilizzando il microfono wireless da 5 live e mi sto trovando molto bene e ho pensato di fare questa video recensione mostrando le differenze di qualità audio nel parlato appunto per chi come me avesse la necessità di comprare il microfono wireless perché magari fa animazione faccio un esempio o sul palco ha bisogno di muoversi liberamente il microfono wireless funziona tramite due pile AA che io riesco sfruttarle per quattro concerti il ricevitore blx24 è davvero piccolo e compatto ora ho cercato di impostare il gain della scheda audio in modo tale di avere lo stesso volume da entrambi i microfoni vi faccio vedere la differenza di gain nella scheda audio il primo canale lsm58 con il cavo il secondo canale è il wireless ora spero che questa recensione sia stata utile e per qualsiasi domanda scrivete qui sotto o sulla mia pagina facebook ciao